Ciao a tutti cresciotti e benvenuti in questo prossimo episodio di Sky Elements Nello scorso episodio abbiamo portato a casa una cosa tipo quattro lane bordello, bordello assurdo però oggi voglio andare a vedere cosa c'è in questa stanza in cielo che è praticamente altissima ed è in bedrock raga non vorrei aver fatto un fail ma forse l'ho fatto non per dire ma forse questa è la stanza iniziale che tanto in alto non è se riesco a raggiungerla così facilmente ok ragazzi non è la stanza iniziale penso perché sento degli scheletri quindi forse è la stanza iniziale è la stanza iniziale è tutta buia tutta scura perché non c'è luce a sti livelli non c'è luce cos'è ma quindi posso entrare no ma sarà un primo di questi no è la stanza è la stanza delle quest a proposito di questo mi sa che alcune di queste le ho fatte la farm l'ho fatta un artefatto l'ho trovato goal miner l'ho fatto witherslayer no qua ci sono altre cose però non so non penso mi servono tantissimo ste missioni basta considerare il fatto che comunque sono invecebile detto questo ci mancano facciamo un attimo un riepilogo di cosa ci manca a livello di lane ci mancano una due tre quattro cinque lane ipoteticamente come vi ho già ricordato alcune volte questa è una mappa incompleta però diciamo che ci sono tutte e cinque dove potrebbero essere una penso sia lì all'isola deserta un'altra ipotetica lana potrebbe essere non ne ho la più minima idea non ne ho la più minima idea perché non ci sono altre isole mi sa che le ho esplorate tutte a meno che al di là dell'isola della giungla non ce ne sia un'altra non penso forse mi conviene esplorare alcune di quelle palline perché quello l'ho esplorato la ci sono stato anche scavato sotto vedere se c'era qualcos'altro ma non ho trovato niente anche se mi ricordo che sentivo degli zombie quindi forse ho scavato solo nella zona destra e dovrei andare a sinistra potrebbe essere una possibilità fatto sta che la cosa più chiara al momento è che devo andare proprio all'isola della sabbia che è l'unica isola con una specie di bioma per così dire che mi manca perché c'era quella del nether, c'era quella con l'acqua c'era questo con il villaggio, c'era quella della giungla e mi manca questo qui quindi vediamo cosa ci riserva ok la c'è dell'acqua quindi direi che possiamo utilizzarla e ci buttiamo completamente a cab ok perfetto allora vediamo un po' cosa ci aspetta qui non c'è assolutamente niente c'è uno spawner qua nel centro di polli no pecore e non lo uccidere la c'è una va nel vuoto quel buco ok interessante sto dando un'occhiata in giro se vedo qualche cesta non mi sembra questo buco lo evitiamo anzi lo tappo qua si entra in un no c'è il wither c'è il wither ok va bene to unleash the wither a cab very very a cab completamente a caso completamente a caso completamente non ho manco il latte faccio tantissimo danno se non mi prende va benissimo ok è bloccato la sotto mi sta aiutando tantissimo il creatore della mappa ok ha attivato lo scudo ok ok bisogna ucciderlo in fretta in fretta in fretta in fretta boom easy troppo facile zi troppo facile forse è stato così anche nella wayward wonders ancora meglio failati ancora meglio world wonders ho fatto bordello ok easy uno dei wither più facili della mia vita vita oltre a quello io sono comunque abbastanza convinto che forse qua sotto qualcosa ci sia non lo so una lana ma per il semplice motivo che non so più dove andare a cercarle le lane magari c'è una porticina qua sul lato no mi sa che non c'è forse lì vedo della luce sto scendendo troppo aspetta aspetta sto scendendo troppo è un po' più in basso si la no ok non c'era niente fatto sta che abbiamo completato una missione senza volerlo cioè volendo sì però senza volerlo perché ste missioni che cazzo se ne frega boom abbiamo sconfitto il wither quanti diamanti ci da? 20 diamanti ma sinceramente io ho dei diamanti ormai non è che mi interessa tantissimo c'è anche un dragon slayer dragon slayer vuol dire che bisogna andare nel land anche quella penso sarà abbastanza facile come missione questa mappa è davvero overpowered però non so dove sapete cosa? voglio andare la voglio andare ci proprio proprio tanto perché voglio vedere cosa c'è all'interno c'è questo laser verde che va nel cielo voglio capire cosa c'è all'interno nel frammento io ho un'altra lana la grey wool che mi ha dimenticato di piazzare e... aspetta l'ho presa adesso e non mi ricordo no non l'ho presa adesso quindi ce ne mancano 4 diciamo che ipoteticamente ne mancano un paio direi che ragionandoci un pochino la cosa che ci manca è trovare il portale del land domanda come ci arrivi ti rispondo con le nuvolette io sono convinto che queste nuvole mi possano portare dove voglio andare anche se aspetta stanno girando intorno ok aspetta dove cazzo sono le nuvolette eccole la quelle nuvolette voglio seguirle prima però voglio anche andare a vedere cosa c'è in quella nuvoletta di ossidiana potrebbe esserci una cesta come potrebbe esserci un blocco non so un blocco di smelagli un blocco di diamanti qualcosa vi ricordo che mancano ancora i blocchi da trovare come potrebbe esserci non ho idea cosa potrebbe esserci spero una cesta in realtà con magari dentro qualche blocco chilo troppo può essere ok proprio qua accanto quindi giù di cobblestone anche se l'ho quasi finito devo andare a recuperarne altra quindi si si diverte ok tagliamo il burro c'è una cesta c'è una cesta con delle armature in diamante e una spalla di diamante buono buono buona sapere vuol dire che anche di là ce n'è un'altra l'unica cosa che non mi interessa per niente e la lascio qua queste nuvolette invece come cazzo faccio io ok sono riuscito a prenderla prima e da lì no mi conviene utilizzare il ponte che ho già fatto e arrivare all'anello di ghiaccio ok scherzavo io all'anello di ghiaccio ci sono arrivato da lì ok allora però prima delle nuvolette andiamo a quella astronave quella stanzetta di ossidiana per arrivarci penso che l'idea migliore sia quella di distruggere tutti questi spawner perché altrimenti mi fanno il culo e poi di salire su uno di questi alberi uno dei più alti anche se non so quali sia il più alto appena spacco tutto muori e troppa gente ok iniziamo a salire passa la paura ok beh ancora più in alto minchia ce la faccio si si ce la faccio con la cobblestone de cristo perchè è scomparsa è scomparsa la foglia vabbè saliamo là non c'è molto da in basso secondo me perchè vedi c'è un vetro non so se lo vedete dal video però c'è un vetro e subito sotto insomma c'è solo il beacon magari se li rompo posso ottenere qualcosa ma no non ha senso non lo farei non mi sarebbe a niente certo sono curioso di vedere cosa da quel beacon magari non da niente vuole solo far vedere il raggio e esibizioni micchia ancora più in alto ok tutto buissimo quindi speriamo che non ci sia uno spawnerla sopra anche se forse essendo di ossidiana è pieno di creeper beh il nome sarei pieno di creeper ah no c'è anche del vetro ok è shallow non vedo fi a moglie né mob potrebbe essere una cosa sciallissima uh il beacon da qualcosa da speed figo anche se ha un raggio un po' ridicolo forse perchè non ha la piramide intera sotto comunque c'è solo una cesta boh magari c'è una lana qualcosa qua si entra? permesso ah bello bello il raggio po 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 ok torcia unica torcia che mi è rimasta wow magenta wool e quindi ci manca tipo 3 poi blocchi di carbone ma sciallano ah non hai da prendere un blocco di carbone? non lo so prendiamole in caso poi music disc ma prendiamo di scialla e ora mutiamoci perché per tornare a casa ci metto troppo allora magenta magenta wool boom eh si ne mancano proprio 3 vediamo se il blocco di carbone era un blocco richiesto no non lo è non lo è però abbiamo qua tanti dischi musicali sapete cosa? io voglio provare a vedere quali di questi dischi musicali non ho mai ascoltato sono sicuro che no questo l'ho ascoltato mmm non li butto però magari li metto da parte ecco no la spagna no eh di gristo questo l'ho già ascoltato li ho ascoltati tutti che forse questi sono davvero tutti i dischi che si possono ottenere? no sono solo 6 scherzavo ho delle slime ball queste dove le ho prese ah forse all'isola di sabbia c'era tipo vicino a cactus può essere si allora ragazzi per quanto mi riguarda io davvero non saprei dove altro andare eh nel prossimo episodio forse proviamo a vedere cosa c'è in queste isolotte qua sopra e poi seguiamo la le altre nuvole quelle un po' più piccoline queste qua perché sono sicuro che portano a qualche parte sono troppo troppo costanti per non portare a nessuna parte quindi io vi ringrazio tantissimo per la visione ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale se è quello che avete fatto di iscrivervi su twitter, instagram, facebook o comunque voi lo vogliate ciao a tutti a tutti